Nei giorni che precedono la Pasqua, Scafa vivrà delle ore importanti. La storia di questo paese viene alla luce grazie all'arrivo di alcuni reperti storici. C'è stato fatto un bellissimo regalo per Pasqua dalla parte della sovraintendenza, che colgo l'occasione per ringraziare con grande affetto e stima. Ritornano a Scafa i resti di una tomba di epoca imperiale, primo-secondo secolo d.C. Sono i resti di una tomba che con ogni probabilità era la tomba di un cavaliere, di un guerriero, e ciò è desumibile dalle immagini che sono incise sulla roccia, scudi, lance, corazze. E' ovvio che rappresenta un momento storico per il nostro paese. Dimostra che Scafa, sì, è un paese dalla storia recente, ma è un paese che probabilmente ha delle radici antiche. Dimostra che il nostro territorio aveva un'importanza strategica in epoca romana. D'altro canto le miniere erano utilizzate dai romani che lavoravano la roccia luminosa per vari fini, tra i quali anche quelli della impermeabilizzazione degli scafi. Quindi il territorio fruirà di questo ritorno e avrà anche un'importanza dal punto di vista turistico. Non dimentichiamo che dalla stazione, nei pressi del quale c'è il Convento delle Clarisse che ospiterà questi resti, partirà a breve una pista ciclabile che, partendo appunto dalla stazione, raggiungerà la miniera di pilone in territorio di Abbateggio. Quindi capite bene l'importanza strategica, culturale e sociale di questo rudere che verrà posizionato all'interno dell'ex cappella delle Clarisse di Scafa.